Buongiorno a tutti oggi preparo biscottini alla fragola a forma di fiore Mi occorre 400 g di farina, 100 g di mandorle senza bucce frullate, un pizzico di sale, 200 ml di polpa di fragola, 200 g di zucchero, 2 cucchiai di amaretto, 16 g di lievito per dolci, 2 uova, 100 g di gocce di cioccolato fondente, 100 g di burro, un po' di vaniglia e una forma a fiore Inizio a preparare i biscotti, nella farina metto le mandorle, lo zucchero, il lievito setacciato prima, anche la farina, un pizzico di sale, le gocce di cioccolata e mischio Ora metto le fragole Il burro Le uova La vaniglia E due cucchiaini di amaretto Ora mischio tutto Se volete fare la polpa di fragole cliccate qui Impasto con le mani Una volta impastate, metto un po' di farina ai lati Anche sulla spianatoia Verso l'impasto sopra Lo lavoro un po' con le mani e lo stendo, aiutandomi sempre con un po' di farina Perché l'impasto è morbidissimo Passo un po' con il mattarello Quando lo spessore è di 3 mm inizia a fare le forme Ho messo la forma nella farina Inizio a fare le forme E poggio su una teglia con della carta da forno Li vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 per 20 minuti Continuo così fino al desforimento dell'impasto Una volta sfornati ho spolverizzato un po' di zucchero a velo sopra Eccoli pronti da gustare Vi faccio vedere come sono venuti dentro Friabili e buoni Grazie della visione, alla prossima Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace Grazie a tutti